Capitolo 16. Una nuova localizzazione del linfoma nel gatto descritta dai consulenti Lavallonea. Il dottor Luigi Venco, diplomato EVPC, e il dottor Walter Bertazzolo, diplomato ECVCP, consulenti del laboratorio Lavallonea, ci parlano di una loro recente pubblicazione apparsa sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Philemon Medicine and Surgery. Il titolo dell'articolo, gli autori e le indicazioni bibliografiche sono disponibili sul blog mylove all'indirizzo www.mylove.net. Di cosa si tratta innanzitutto? Nel corso degli ultimi 15 anni abbiamo diagnosticato presso la nostra struttura sette casi di linfoma pericardico felino che sono stati descritti nell'articolo in questione. A questi dobbiamo aggiungerne altri due recentemente diagnosticati per un totale di nove casi. Perché questa localizzazione è così rara e non è mai stata descritta precedentemente nemmeno in un singolo case report? Domanda dalla difficile risposta. Alcuni linfomi pericardici potrebbero venire diagnosticati erroneamente come linfoma mediastinico. Una diagnostica per immagini adeguata, però, riesce a discriminare molto agevolmente le due localizzazioni. Inoltre potrebbe anche accadere che alcune neoplasie non vengano approfondite con biopsie, trascurando la possibilità che si tratti di una neoplasia linfoide. La neoplasia era localizzata solo al pericardio? Sulla base dei riscontri ecografici e patologici, i gatti presentavano un coinvolgimento massivo e diffuso del pericardio, con focali invasioni microscopiche di altri organi. Il pericardio appariva notevolmente ispessito, fino a due centimetri, sia all'esame ecocardiografico che alla necroscopia. Per queste ragioni possiamo presumere che la localizzazione primaria fosse proprio quella pericardica. Quale sintomatologia presentavano questi gatti alla visita clinica? Tutti manifestavano gravi problemi respiratori, scarse condizioni corporee, anemia, attenuazione dei toni cardiaci e presenza di versamento pleurico e o pericardico. Avete notato una relazione con un'eventuale infezione da felv? In effetti, sei gatti su sette risultavano positivi al test sierologico antigenico o alla ricerca dell'antigene virale mediante immunohistochimica. Presumibilmente questa forma linfomatosa presenta quindi caratteristiche eziopatologiche simili all'infoma mediastinico, anch'esso frequentemente associato all'infezione da felv. Come siete giunti ad una diagnosi definitiva? Innanzitutto l'ecocardiografia era assolutamente suggestiva con un ispessimento diffuso di tutto il pericardio fino a 1-2 centimetri che presentava un aspetto cerebroide e sigua falda di versamento senza peraltro evidenza di tamponamento o compressione delle camere cardiache. Inoltre, in molti casi, abbiamo avuto una conferma in vita mediante esame citologico della neoplasia e o del versamento, confermata poi anche dalla necroscopia e dall'esame istologico. Domanda per i patiti dell'oncologia. Erano linfomi T o B-cell? Dei sette pubblicati, tre erano B-cell e tre T-cell. In uno non abbiamo potuto effettuare l'immunofenotipo. È una neoplasia trattabile? È ovvio che abbiamo dati molto scarsi, visto la rarità della condizione. Possiamo però dire che l'unico gatto sottoposto ad un trattamento polichemioterapico ha vissuto per quasi due anni, salvo poi recidivare con metastasi a distanza. Gli altri soggetti sono stati soppressi e non hanno risposto a singoli trattamenti con cortisonici o doxorubicina.